Il CL ha sedotto anche il Movimento 5 Stelle? Assolutamente, io direi proprio di no, non ho perpito. Hanno invitato il Movimento 5 Stelle a dire la propria opinione, il Movimento 5 Stelle con verità, come fa in Parlamento e come fa in tutti i posti, dice la sua opinione. Noi siamo un gruppo sano, siamo un gruppo forte, non ci lasciamo intimidire da nessuno. Quindi noi se... Ma io penso che assolutamente di sì, insomma, non è certo uno sproveduto. Ma lei l'ha chiesto l'autorizzazione per venire qui?